Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna, in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e Bivia 11.1 tutto verso Firenze e in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandici ancora una volta in direzione del capoluogo. Per il traffico ferroviario informiamo che la biglietteria di Signa quest'oggi è chiusa al pubblico. E arriviamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tramvia. Da quest'oggi riapre via Cittadella in attraversamento su via Guido Monaco. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infia è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! Grazie!